Fino al 16 settembre sarà possibile iscriversi al Master di secondo livello in Etologia Filosofica ed Etica Ambientale promosso dall'Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Al corso può accedere chiunque abbia una laurea magistrale, una laurea vecchio ordinamento o un titolo straniero equipollente. Il Master propone un percorso didattico orientato al superamento della separazione tra scienze umane e naturali, mirato a formare studiosi e lavoratori capaci di affrontare le grandi sfide scientifiche e sociali del nostro tempo, in primis quella climatica. Le attività curricolari si svolgeranno da remoto e non ci saranno lezioni mattutine nei giorni feriali. La nostra proposta didattica si articola in tre blocchi. Nel primo verranno illustrati i rivoluzionari cambiamenti che hanno investito la biologia evolutiva dello sviluppo negli ultimi trent'anni e le loro implicazioni teoriche, educative, mediche e sociali. Nel secondo si guiderà i discenti alla scoperta delle menti e delle culture animali e dei problemi filosofici che il loro studio solleva. Il terzo blocco sarà invece incentrato sulla questione ambientale e sulle etiche antispeciste ed è mirato a offrire strumenti per comprendere gli effetti devastanti dell'impatto antropico e le misure necessarie per affrontarli. Proprio per questa sua impostazione trasversale ai blocchi disciplinari, il curso offre ampie possibilità di sbocchi professionali sia a discenti provenienti dal settore umanistico, sociale e giuridico sia a studenti provenienti dall'ambito delle scienze della vita, della terra, della salute. Apriti alla scoperta di nuovi orizzonti conoscitivi e lavorativi studiando con noi, ti aiuterà a capire meglio il mondo in cui vivi e magari a contribuire un po' a migliorarlo.